Nel piano di Livia si trova un castello detto di Cuguruzzo, fatto all'Italia del Bronzo. È classificato monumento storico e è oggi in mani alla collettività territoriale di Gursila. Dopo percorso un'antica mina mezza agrotibia preistoria, caschiamo un muralione e un'entrata da Manta, fatta da un monte, smizzato da una saetta. I petri di costruzione sono di pareti centinaia di ghinò. Sappiamo che questo muralione che accigna il lungo data di avvindilità del bronzo. Scalando il codetto, sbucchiamo in un'antausito e puremmo i figliolaigmanfini tutti intorno. A mezza stusito troviamo una grotta che ha giuato, fatto da una sciappa cascata in dei tempi antigoni. Posti al centro del castello, fanno un giro a nant'anno. Giusto sotto l'entrata avevamo due attelli. Il primo aveva i tessitori. Ci sono stati trovi pareti contrapesi che ci indettano il vatto. Il secondo telo era dei pignolati. Ne testimoniano i pezzi numerosi di taraglia trovi. Dopo, giugniamo al luogo dove si lavorava a gari. Nanta un scoglio, troviamo una cupola, spesso di mortali, preistorico. «Girandoci di più, vediamo ciò che ferma dietro ora, questo bastimento tondo che si alzava a 92 piani e che si assomigliava ai nuraghi sardi. In drento, si trovano pareti testimonianze dell'attività dell'epica, come la maciniera di abbiada o la vonte di imitati. Dopo, casciamo in un'anta murale spessa spessa che contiene due gantini, una a usa corridori e l'altra con entrata sola. In drento, si trovano pezzi di giare che avevano contenuti biati anziani, erano dunque luoghi da cantero. Tavamo qui una vista di questo luogo davanti ai gantini che poteva giocare di cucina. continuando, si giugna una piccola piazzetta e un'anta ugammina che porta il paese luetio all'indio. E poi, si trova l'entrata della famosa torre. Questo monumento date di un principio dell'età di un bronzo. A presto. 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 Grazie.